Buongiorno McFamily, come promesso dopo essere stati alla fiera del bue grasso di Carrù e dopo essere andati in azienda dove il bue diventa bue grasso, siamo a pochi chilometri dalla porta della Langa, più precisamente a Sant'Albano, Stura, dove tutte queste meraviglie che abbiamo visto esposte diventano carne per la nostra tavola. Una macelleria, la macelleria Rossi, pensate totalmente a gestione femminile, quindi sarà veramente una cosa molto molto particolare. Sto per entrare, sto per andarle a trovare, sto per andare a scoprire questa innesima eccellenza, quindi restate collegati perché ne vedrete veramente delle belle e delle buone. Ed eccoci qua finalmente all'interno della macelleria Rossi di Sant'Albano, Stura. Come vi dicevo questa macelleria è totalmente a gestione femminile. Ebbene sì, qui il macellaio è una macellaia ed è veramente una cosa curiosa e molto particolare. Pensate che da generazioni la famiglia Rossi gestisce questo punto vendita, è partita come un'attività piccola ed è cresciuta diventando un punto di riferimento di qualità e di eccellenza. Quindi non ci resta che andare a scoprire tutti i bei prodotti che sono qui alle mie spalle solo per voi. Siamo nel periodo del bue grasso, ma naturalmente alla macelleria Rossi di Sant'Albano, Stura, non è solo il bue grasso il re assoluto di questa bellissima esposizione. Come vedete di carne ce n'è tanta, ce n'è tutto l'anno ovviamente. Parliamo di vitelli, parliamo di manzo castrato, parliamo veramente di tantissime qualità. Tutte appositamente ricercate e selezionate dalle nostre macellaie per dare sempre al consumatore finale un prodotto certificato di qualità e quindi garantito al 100%. Guardate che bella carne, guardate che meraviglia. E a proposito di grandi eccellenze piemontesi, ecco qua il cappone di Morozzo. Siamo a pochissimi chilometri da Morozzo e quindi qui potete anche trovare questi meravigliosi capponi. Primo presidio Slow Food, altra grande eccellenza piemontese, altra grande eccellenza che potete trovare qui alla macelleria Rossi. Per chi non ama il bue grasso c'è il cappone. Se pensavate che vi avrei mostrato solo carne, vi stavate sbagliando perché qui potete trovare anche tantissime leccornie, gastronomia, ovviamente anche in questo caso tutte eccellenze del territorio, tutti prodotti della tradizione, tutte antiche ricette. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia questi peperoni con bagna cauda. Questa autentica eccellenza del nostro Piemonte e quindi qua tocca andare ad assaggiare. Non solo carne quindi perché per quanto riguarda il nostro Piemonte siamo tutti molto appassionati al grande affettato e qua veramente ne potete trovare di tantissimi tipi, tantissima qualità. Guardate che meraviglia questi salami, ma soprattutto guardate che meraviglia questo lardo. Non so se mi spiego, stiamo parlando di un lardo di primissima qualità, una vera e propria eccellenza che potete trovare anche qui alla macelleria Rossi di Sant'Albano Stura. Carissimi amici, il mio viaggio alla ricerca delle eccellenze dei territori qui alla macelleria Rossi di Sant'Albano Stura sta per finire. Vi faccio ancora vedere tutte queste eccellenze in un'unica carrellata. Quindi abbiamo visto il cappone di Morozzo, abbiamo visto pollo ruspante, abbiamo visto tantissimi piatti pronti della tradizione, peperoni in bagna cauda, insalata russa, e poi abbiamo visto la grande carne di razza bovina piemontese e soprattutto il re bue grasso. Insomma, ce n'è veramente per tutti, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Io adesso vado a farmi una bella spesa, a farmi una bella scorta, perché mi è venuta veramente tanta fame. Ed ecco qua una primissima immagine, un primissimo video di quello che potete trovare alla macelleria Rossi. Quello che vedete è un carré di bue grasso, stiamo parlando di razza bovina piemontese, quindi il meglio che potete trovare assolutamente per questa tipologia di carne. E tra l'altro è tutta carne che arriva dall'azienda agricola di Andrea Migliore, che abbiamo conosciuto l'altro giorno. Carne quindi di primissima qualità, carne di primissima scelta, selezionata appositamente per voi, appositamente per i clienti. Una carne meravigliosa che potete solo immaginare che bontà potrà diventare. Ed eccolo il meraviglioso carré di bue grasso che vi ho mostrato in prima linea del nostro post. Un'autentica eccellenza, un'autentica meraviglia. Anche questo arriva appunto dall'azienda agricola Migliore e qui alla macelleria Rossi di Sant'Albano Stura lo potete trovare, lo potete acquistare e lo potete portare a casa, perché l'eccellenza qui è veramente, veramente di casa. Carissimi amici, dalla macelleria Rossi di Sant'Albano Stura, per il momento, ma solo per il momento, direi che è tutto. Vi ho mostrato tantissima carne di primissima qualità, eccellenze, tutte eccellenze del nostro Piemonte, tutte eccellenze della nostra provincia grande. Qui veramente la qualità, la ricerca di tutto ciò che è genuino, di tutto ciò che è sano, di tutto ciò che è naturale è il primissimo punto dal quale parte da generazioni l'avventura in macelleria della famiglia Rossi. Li ringrazio per l'ospitalità, ringrazio quindi le sorelle Rossi per l'ospitalità. Per quanto ci riguarda, ci sentiamo tra pochissimo. Grazie a tutti.